E' la terza ripresa! Tutto Davide! Dai Davide parti! Non aspettare Davide, dai! Atteccalo! Vai Davide! Vai Davide, dai! Davide, dai! Dovrebbe avere la conchiglia, dove ci accettano e ci sono la mezza. No, no, no. Non è quella. Perché lui ha dato il piede per farà la roccia. Eeeh! Eeeh! Vai, va! Vai l'albitro! Va a scuola! Va a scuola! Ah, signor! Polpo scorretto. Polpo scorretto. Polpo scorretto. Davide, chi? Dai! Dai, dai! Dai, dai! Dai, Davide! Lo devi distruggere! Spingi Davide! Dai, che è finito! Dai, Davide, dai! Sbaglio addosso! Ehi, fulisci! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' la quarta ripresa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Davide, dai, fare cassa! Vai, Davide! Spara, spara! Davide! Vai, dai, dai! Vai, dai, dai! Dai, spingi, Davide! Dai, 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 Davide! Vai, dai, dai, dai! E' la quinta e ultima ripresa. E' la quinta e ultima ripresa. Vai, dai, 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 dai! Paratipro! 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 E' cotto Davide, vai! Qua ce l'hai piegato, Davide! Ha finito Davide i sisti! Pinocchio! Dai, l'ha presa col piede, si è fatto male lui, dia boia! Dagli la ginocchiata in faccia! Scassati la faccia, Davide! Quando si abbasso la ginocchia, guarda che la tiene l'altra la testa, puttana boia! Uno! Boxa, Davide, dai! Para, peccato! Para, Davide, para! Vai, Davide, vai! Dai, dai! Vai, vai! Vai, vai! Dai, Davide! Bravo, bravo! È grande, dai! Dai! Ma lo serve? Vai, vai! Vai, vai! Arbitro! Vai, vai! Spera ti che bello! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! che veramente ha esprimato tutto se stesso nel tentativo addirittura di chiudere il match di porta. Una prova vero campione. Grazie a tutti, al nostro collaggioso Davide Carli. Ovviamente il campione francese della PIA ha mostrato tutta la sua tecnica, la sua esperienza, la sua pretezza. E quindi anche il terzetto è sicuramente impegnativo. Ricordiamo comunque che nel risultato sono determinanti le tecniche di calcio e di ginocchio e non vengono conteggiate le tecniche di pugno. Questo è il regolamento tradizionale. Premirà il vincitore del combattimento, un personaggio a noi tutti appassionati di arti marziali, noto. il dottor Adamiani, il dottor Silvano Adamiani, presidente nazionale dell'Endas. Chiamiamo quindi il dottor Adamiani, al quale tributiamo come appassionati un sincero applauso per tutto quello che sta facendo a livello nazionale. Bravo Davide, bravo! C'è un grande Davide! Vì, 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 vè, vè una madonna? Lì ragazzi è una cotoletta più bella. No! Patesia il vertetto dei gilici al tavolo. Esce di Bologna? Esce di Bologna? La guardiamo? Vincitore del combattimento, Mustapha Belapia!